Maggioranza spaccata che si continua a dividere sulle nomine e oggi la Capigruppo sul nome designato Paolo Gatti alla Corte dei Conti una profondissima divisione tra la Lega e Fratelli d'Italia. Noi avevamo chiesto già alla precedente Capigruppo di tornare in aula, votare e designare in aula il candidato del Consiglio regionale alla Corte dei Conti. Oggi hanno risposto all'appello una parte e la parte più importante dei partiti della maggioranza ovvero la Lega con una divisione tra Lega e Fratelli d'Italia, tra Lega e Marsilio che continuano questo lungo braccio di ferro ormai da un anno esclusivamente sulle partite delle nomine e delle poltrone. Una regione che si ferma sempre di più attorno a questo continuo braccio di ferro, a queste continue divisioni esclusivamente sulla lunghissima partita delle nomine in questa regione.